La paura, sfuggire la paura, tempo di repero. La cingerò, cingerò la paura, l'ultima volta che lo cinta è la marzo, il 25 di marzo pioveva, prima la pioggia, poi la torre è ricavata. Un errore probabilmente in questo stato d'animo. Niente scrupoli, salda, giusto salda. Ancora giusto salda. Prima ci agi piano e poi ci calmerò. No, non è stato il caso, vengo a suggerirmi l'idea. Io l'attore l'allungio prima, se mi venisse l'idea. Io ricordo te, sono l'allungio nel mentre di mia madre. Una carta di vetro l'anfranca la significare di morire. solo quando la testa sanguina, la corona è fissata bene, solo quando la testa sanguina. Ho sempre rifiutato l'eccesso di trucco. Ho recitato contro tutti. Non ho cercato mai di farmi avanti e non possiamo dire di esserne soddisfatti. Facciamo un viaggio, riapriamo distrutti. Usciamo di casa, arriviamo esausti. Non telefoniamo nemmeno più. Il telefono lo abbiamo disdento. Disdento, abbiamo fatto l'apportamento al giornale. Disdento. Il telefono. C'è scritto con il segretario? Tutti si infiliavano regalatamente nelle contraddizioni. L'arte teatrale, il terrorismo. Non abbiamo creduto a nulla e abbiamo preso tutto per vero. Ci siamo fatti dire di tutto. E poi ci abbiamo sputato. 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 Abbiamo imparato a tossire. Tutta la settimana intera. Abbiamo imparato. Come tossire se vuole. Imparato a tossire per otto settimane. Imparato per otto. L'unica settimana. Come tossire se vuole. Imparare a tossire. Come tossire. Come tossire. Come tossire. Come tossire. Come tossire. Come tossire.